Ciao a tutti, benvenuti a questo convegno di celebrazione del decennale della firma dell'intesa tra l'Unione buddista italiana e lo Stato. Prima di lasciare la parola al nostro Presidente Filippo Scianna vi leggo il messaggio di benvenuto che ci è arrivato dal Presidente del Senato che ci dice è con grande piacere che invio il mio saluto in apertura di questo appuntamento promosso dall'Unione buddista italiana nel decennale della legge che ha regolato i rapporti con lo Stato. Purtroppo impegni istituzionali non mi hanno consentito di accogliere il gradito invito ad essere con voi oggi per condividere i pensieri e i contributi di questa giornata. Desidero comunque rivolgere al Presidente Filippo Scianna, agli organizzatori e ai tanti illustri relatori il mio sincero apprezzamento per lo spirito di partecipazione con cui si è inteso celebrare questo importante anniversario. Questo convegno, oltre a ripercorrere le tappe che hanno portato la firma dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione buddista credo rappresenti anche un'opportunità per condividere una preziosa riflessione su quei lavori che sono cardine della nostra comunità nazionale e del nostro essere una nazione che ha a cuore, riconosce e tutela la libertà di fede alla pari e nel rispetto di ogni altro diritto fondamentale di tutti gli esseri umani. Rinnovo pertanto i miei auguri nella certezza che questo momento di confronto saprà rinnovare forti sentimenti di amicizia e cooperazione su cui costruire un comune percorso di dialogo, di libertà e reciproco rispetto a cui non farò mai mancare la mia convinta adesione. Senatore Ignazio La Russa, Presidente del Senato, che ringraziamo. A questo punto apriamo i lavori e chiamo il Presidente Filippo Scianna per i saluti istituzionali. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutte le autorità religiose presenti, a tutti i rappresentanti delle istituzioni che ringraziamo per essere qui con noi, agli ex Presidenti dell'Unione Buddhista Italiana che hanno accolto l'invito ad essere qui oggi, a tutti coloro che rappresentano i centri UBI e che sono qui con noi o che ci seguono comunque in gremoto. A nome dell'Unione Buddhista Italiana esprimo la felicità di celebrare in questo prestigioso luogo i dieci anni dalla pubblicazione della legge 245 del 31-12-2012, che peraltro accoglieva l'intesa firmata il 4 aprile del 2007 e che regola appunto i rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana. Una legge che affonda le proprie radici nell'articolo 8 della Costituzione e che disciplina appunto il rapporto tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana recependo quelle che sono le istanze del movimento buddista in Italia definendone in qualche maniera per sintetizzare oneri e onori. Allora, i preziosi relatori che seguiranno poi, che mi seguiranno, illustreranno quelle che sono state le tappe di un percorso che, a dire la verità, non è stato dei più semplici per arrivare prima all'intesa e poi alla legge e che ha scomodato all'epoca diversi giuristi, politici, parlamentari, chiamati ad esplorare il concetto stesso di confessione. Per una tradizione religiosa che, come sapete, è stata la prima nella storia della Repubblica Italiana a firmare un'intesa con lo Stato provenendo da un ceppo non giudaico cristiano. E questo chiaramente condizionò indubbiamente il dibattito e mi permetto di dire che questo dibattito in qualche maniera contribuì ad affinare o alimare il principio stesso di laicità dello Stato. Il percorso che ha portato alla firma dell'intese prima e alla pubblicazione della legge poi è stato parallelo a quello della crescita della presenza buddista nel territorio italiano. Un solo dato che credo possa dire di tutto ciò. Vi erano nove centri, nove centri buddisti, quando l'Unione Buddista Italiana si costituì nel 1985 e ve ne sono 64 oggi. Segno di un crescente interesse per questa tradizione millenaria e di un coinvolgimento progressivo di molte persone prevalentemente cittadini italiani che si sono riuniti e si riuniscono per ascoltare, studiare, praticare presso i centri centri che hanno lo scopo di preservare e mettere a disposizione le diverse tradizioni i diversi lignaggi che si sono sviluppati in diversi secoli e in diverse aree del mondo. E peraltro l'UBI è anche riferimento di comunità buddista e stranieri in Italia. Penso a quella singalese o a quella cinese. Direi quindi un coacervo di realtà unite nella diversità. E unità nella diversità è il motto di colui che fu il principale ispiratore della nascita dell'Unione Buddista Italiana ovvero Vincenzo Piga il cui impegno e la cui visione è giusto menzionare in questo anniversario e cito lui in rappresentanza di tutti coloro che accompagnarono il suo percorso e presero poi il testimone nello sviluppo della storia dell'Unione Buddista Italiana. Un'UBI quindi che si è sviluppata attraverso una grande attenzione alla qualità degli insegnamenti proposti e al valore delle diverse tradizioni presenti. E in questo senso l'importanza dei luoghi di culto monasteri, templi, sale di meditazione, spazi per cerimonie, biblioteche per lo studio, lavori di traduzione messe a disposizione del Sangha, della comunità buddista, ma anche di persone semplicemente interessate, incuriosite, che vogliono approcciare comunque questa tradizione, a cui non viene però mai imposto e richiesto di divenire buddista, in ossetto ad una ferma volontà di evitare qualsiasi forma di proselitismo. Questi sono i luoghi della pratica dei centri associati all'Unione Budista Italiana e questi sono i luoghi peraltro menzionati evidentemente in alcune delle norme dell'intesa. Centri ognuno di quali si è inserito nel proprio contesto territoriale grazie anche ad attività di concreto valore sociale, di dialogo culturale e di dialogo interreligioso, essendo quindi protagonisti del territorio in cui questi centri sono cresciuti e si sono sviluppati. A seguito della legge 245 e dell'accesso ai fondi dell'8 per 1000, in questi anni l'Ubi ispirandosi peraltro al principio di interdipendenza che viene esplorato dal buddismo nella sua più sottile e raffinata visione e che fonda un'intelligenza della compassione, un'etica della generosità del rispetto, della cura per tutti gli esseri ha indirizzato il proprio impegno per intervenire dove ce n'era e ce n'è più bisogno, spesso peraltro in collaborazione con le realtà che già operano sul territorio, condividendo e acquisendo esperienze reciproche. Così nel corso degli anni l'Ubi ha sostenuto progetti a favore dei profughi, dei rifugiati nell'ambito dei corridoi umanitari collaborando peraltro con altre confessioni, tradizioni religiose. Si è mossa a difesa delle minoranze, delle nuove povertà, delle frange più deboli della società. Ha finanziato iniziative rivolte a chi vive quotidianamente la difficile realtà delle carceri. Si è impegnata a favore della ricerca, dell'istruzione, della cultura, della tutela dell'ambiente, della biodiversità, del fine vita e nella protezione di tutti gli esseri senzienti indistintamente. E ha creato in questo senso anche delle agende di lavoro che contribuiscono in maniera sistemica e collaborativa alla realizzazione di progetti, scambi e dibattiti in dialogo con istituzioni italiane ed europee. E mi piace ricordare in questo luogo, in questa occasione così importante, così istituzionale, l'intervento dell'Unione Budista Italiana nella fase emergenziale della pandemia, contribuendo economicamente allo sforzo enorme che stava facendo in quel momento la protezione civile. In questi quasi quarant'anni di vita, quindi sin dall'inizio, direi, lo sarei direi anche prima della costituzione dell'UBI, comunque il movimento buddista ha sviluppato e consolidato i rapporti anche con altre confessioni presenti attraverso attività ed eventi comuni. E la speranza è che ci siano le condizioni per intensificare questo dialogo, per intensificare la conoscenza reciproca e ancora più, se mi permettete, per una collaborazione fattiva su progetti sociali e umanitari e credo ancora più in generale, permettetemi questo rilievo, per un'esigenza di fare un fronte comune a quella che è la dilagante mancanza di una dimensione di senso che sta attraversando la nostra società, a un crescente nichilismo, ad un'eclissi del sacro, le cui conseguenze sono quotidianamente sotto i nostri occhi. da ultimo, mi piace ricordare che così come i centri buddhisti e l'Unione Buddista Italiana è un insieme di lignaggi, di tradizioni, ma mi piace ricordare anche il lignaggio da un certo punto di vista, la storia e la grandezza del nostro paese, la cui costituzione è depositaria di quei valori menzionati anche nel messaggio del Presidente del Senato e che ci ha consentito di arrivare alla legge più in generale, ci consente di esercitare una libertà di pensiero e di espressione religiosa. Lo dico perché non è scontato e lo dico soprattutto perché in alcuni paesi di provenienza buddista questa possibilità, non c'è, non c'è questa possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero e penso in particolare alla situazione del Tibet. Bene, da ultimo, veramente da ultimo, questa in sintesi è stata una panoramica su quella che è un'azione ad ampio raggio dell'Unione Budista Italiana, un'azione collettiva ed equanime che si spera mettendo assieme valori buddisti e con l'idea anche di collaborare per promuovere, difendere, valorizzare i diritti presenti all'interno della Costituzione è un'azione che noi svolgiamo come Unione Budista Italiana in collaborazione con tutte le istituzioni per un futuro che ci auguriamo essere più consapevole più compassionevole e più sostenibile per la nostra generazione e per quelle che seguiranno. Grazie. Grazie mille al Presidente Shanna e apriamo a questo punto i lavori con la prima parte di questo convegno che riguarda la ricostruzione storica dell'intesa tra lo Stato e l'Unione Budista Italiana e quindi lascio la parola al Senatore Lucio Malan per il primo intervento della giornata. Grazie. Buongiorno a tutti un saluto a chi ha organizzato il convegno e a tutte le autorità religiose e civili presenti. È un bel anniversario di un passaggio importante all'applicazione di un articolo della Costituzione l'articolo 8 della Costituzione che è stato scritto quando credo che nessuno pensasse che ci sarebbe poteva un giorno partecipare e usufruire di questo articolo 8 l'Unione Budista Italiana perché all'epoca i numeri erano ben diversi da oggi ma proprio questo testimonia la saggezza di chi ha scritto in generale la Costituzione ma in particolare gli articoli che riguardano la libertà religiosa la cui importanza è sottolineata in ogni parte quando si dice all'articolo 3 che non ci possono essere discriminazioni in base ad essa quando si parla all'articolo 19 della tutela in generale della libertà religiosa e poi c'è questo strumento che è l'articolo 8 che viene non a caso dopo il 7 che regola i rapporti con la Chiesa Cattolica e la Santa Sede si tratta di un passo importante come ha detto il presidente Shanna che per la prima volta era una si trattava di un'intesa che andava al di fuori della tradizione del ceppo giudaico cristiano e testimonia la validità dello strumento delle intese che sono fatte su ciascuna sulla sono modellate sulla realtà di ciascuna delle confessioni e già la parola confessione come lei ha detto è difficile usarla comprendendo tutte perché è chiaro che era pensata sulla base delle chiese cristiane in particolare naturalmente della Chiesa Cattolica questo era il modello di conseguenza quando si ha a che fare con una tradizione con una realtà molto diversa come quella buddista come quella induista che ebbe l'intesa nello stesso percorso parallelo vediamo i due presidenti che si stringono la mano delle due unioni ha potuto nonostante appunto la Costituzione fosse stata pensata su realtà diverse ha potuto adattarsi a ciascuna realtà ogni realtà ha un particolare esigenze ci sono alcune delle chiese che hanno delle confessioni che hanno tenuto delle intese che hanno esigenze molto vicine dunque le intese sono quasi uguali basta cambiare il nome in altri casi invece bisogna pensare a strutture molto diverse a concezioni molto diverse e questo è bello la Costituzione italiana è pensata per una Repubblica per una realtà pluralista di religioni di culture e questa è una grandissima ricchezza non senza difficoltà non senza difficoltà le stesse date menzionate dal presidente Scianna ci dicono che fu siglata nel 2007 questa intesa e la legge fu pubblicata il 31 dicembre anzi no la legge porta la data del 31 dicembre del 2012 ma pubblicata ancora qualche mese ancora qualche mese dopo per cui ancora qualche settimana dopo per cui abbiamo l'anniversario che ricorre ricorre adesso il percorso non è semplice per tutte le confessioni religiose il solo riconoscimento della personalità giuridica è complesso ci sono mille ostacoli qualcuno che forse potrebbe anche essere un po' smussato segue diverse realtà dove a volte per avere una risposta sono necessari tempi lunghissimi forse qui bisognerebbe fare qualche velocizzazione ma intanto si arrivò si arrivò all'approvazione il senatore Ceccanti partecipò con me a questo stesso percorso presentammo il disegno di legge di approvazione dell'intesa poi in questo modo tra in ammo il governo che lo presentò a sua volta e poi si è arrivati senza qualche difficoltà all'approvazione che alla fine è stata unanime cioè tutti i partiti hanno votato a favore però il punto è superare determinati ostacoli questo è un però un percorso di successo che contribuisce a dare a coloro che si riconoscono nell'unione buddista avere una migliore possibilità avere una migliore possibilità di praticare ciò che ritengono a praticare quanto la loro appartenenza li porta a fare facilitando l'istituzione delle varie iniziative che ci sono sul territorio come ha illustrato il presidente shanna e credo che questo sia doveroso la dimensione spirituale o religiosa non può essere in nome della laicità dello stato ignorata o emarginata ma è parte della persona umana non per tutti non per tutti ma è parte importantissima della persona umana pertanto tutti devono avere la possibilità di esprimere questo aspetto fondamentale della loro personalità questo è un passo importante naturalmente la libertà non serve se resta in astratto va messa in pratica fin dall'inizio la costituzione ha stabilito una libertà di culto generalizzata ma ci sono voluti decenni perché venisse venisse recepita in un in un paese dove una confezione cattolica evidentemente era la stragrande maggioranza tanto che moltissimi pensavano che ci fosse solo quella io sapevo che non era così appartenendo da molti secoli a una minoranza essendo valdese ma a lungo sono valori secolari però quasi tutti pensavano che non esistessero altre realtà e oggi queste realtà sono accettate hanno la loro piena dignità sono riconosciute a tutti gli effetti ci sono sempre ancora dei qualche a volte qualche aspetto da correggere da migliorare qualche passaggio da affinare però il riconoscimento è pieno ed è bello trovarsi qui io vi chiedo scusa ma per ragioni analoghe a quelle del presidente la russa io anche io devo allontanarmi ascolterei volentieri il proseguo ma mi informerò e ascolterò sempre le le voci importanti che si esprimeranno qui grazie e buona giornata grazie mille al senatore Malan per questo quadro generale prezioso sull'importanza del pluralismo religioso nel nostro paese lascio a questo punto la parola al senatore Ceccanti che è anche professore ovviamente dell'università la sapienza di Roma grazie mille professore grazie come costituzionalista Malan mi ha già esaurito gli argomenti quindi vi parlerò in termini di diritto parlamentare con un po' di di aneddoti positivi su come funziona davvero bene il Parlamento ogni tanto anche se pochi lo raccontano la prima buona prassi che abbiamo introdotto è stata lo accennava il collega Malan che abbiamo presentato noi il disegno di legge c'erano sei intese e tre facevano problema tre erano più pacifiche perché erano chiese cristiane c'era una sui testimoni di Geova che poi purtroppo non è passata e però le due qualitativamente rilevanti erano buddhisti e induisti perché si usciva per la prima volta fuori dalla tradizione giudaico cristiana allora lì il governo aveva siglato le intese ma non le presentava non le presentava perché un gruppo di maggioranza il gruppo della Lega era contrario e quindi c'erano queste intese lì a Palazzo Chici che non arrivavano mai in Parlamento però per nostra fortuna con una pronuncia diciamo un po' creativa nel 1994 gli uffici del Senato avevano consentito a singoli parlamentari di presentare loro degli atti del governo che il governo non presentava nello specifico si trattava di alcuni trattati internazionali che erano all'esame della Commissione Esteri siccome il governo non li presentava il Presidente della Commissione competente li presentò direttamente lui ci fu un problema ma gli uffici dissero sì il governo in fin dei conti li firma se poi non li porta in Parlamento i parlamentari devono poter avere un diritto di iniziativa diciamo sussidiaria e quindi fu ammesso in quel caso allora noi decidemmo col collega Malan di presentarlo a noi devo dire la verità era più un problema di Malan che non mio nel senso che lui stava in maggioranza quindi noi avevamo l'opposizione tutto a favore mentre la maggioranza era divisa quindi l'atto più un po' di ribellione lo fece allora il collega Malan superato questa prima difficoltà cioè avere i testi c'era però da superare il problema di un gruppo della maggioranza che era contrario quando su queste materie bisognerebbe sempre lavorare in modo bipartisan e tendenzialmente unanime e allora siccome l'aula eccita quando si va in aula l'aula tendenzialmente eccita spinge ciascuno a polarizzare di fronte alle telecamere le posizioni viceversa la commissione è un luogo piuttosto tranquillo dove se si vuole arrivare a intese è più facile e allora noi facciamo passare il principio che non c'era mai stato fino ad allora che si potessero approvare le intese in legislativa in commissione saltando l'aula fino ad allora si era ammesso che per le modifiche di intese già fatte si potesse passare per la legislativa in commissione ma non per le intese nuove e anzi siccome l'ultimo comma dell'articolo 72 della costituzione dice che per i trattati internazionali bisogna sempre andare in aula c'erano le interpretazioni che dicevano le intese assomigliano a trattati internazionali non si può approvare le legislative in commissione però per fortuna gli uffici ci diedero una mano anche in questo secondo caso e fu ammessa la possibilità di approvare direttamente il testo in commissione saltando l'aula cosa molto positiva non solo per noi ma anche per la camera dei deputati dove il professor Zaccaria collega costituzionalista che allora presideva la commissione affari costituzionali si tenne costantemente in raccordo con noi per riuscire a garantire un iter spedito e quindi questo è stato il secondo passaggio molto positivo poi restava da convincere i membri della commissione e allora come si fa quando ci sono non tanto delle posizioni politiche ma dei pregiudizi culturali abbiamo fatto la cosa che normalmente si fa ma che normalmente è il rituale ma anche in questo caso il rituale non è stata chiamiamo i rappresentanti delle commissioni delle confessioni in commissione li vedono li conoscono pongono a loro e magari si convincono e in effetti ha funzionato diciamo non so se qui possiamo scomodare in questa sede forse sì le categorie di conversione o cose del genere però quantomeno possiamo dire che sono stati rimossi degli pregiudizi perché le persone venendo fisicamente lì rispondendo alle domande dimostrando chi erano sono riuscite a superare queste difficoltà e quindi noi abbiamo avuto l'approvazione all'unanimità sia alla Camera sia al Senato queste cose normalmente nell'attività del Parlamento non sono notiziabili perché molto più notiziabili quando si litiga invece in questo caso per fortuna è andata bene quindi diciamo noi abbiamo fatto questo salto che non era per niente scontato perché c'è stato un insieme di lavoro non sotterraneo ma alla luce del sole però con un grande lavoro di commissione dimostrando che appunto il lavoro in commissione in Parlamento ignoto ai più però può essere in alcuni casi un punto di sblocco fondamentale del sistema e penso che di questo non solo per noi dobbiamo andare tutti orgogliosi grazie grazie mille al professor cercanti adesso chiamo sul palco la professoressa Mariangela Palà che è presidente della fondazione Maitreya nonché ex presidente dell'Unione Budista Italiana è una delle persone che era presente proprio all'inizio di tutto il processo grazie grazie buongiorno a tutti sono molto lieta di essere qui dopo dieci anni ma comunque come si dice io c'ero e quindi come persona informata dei fatti ho in qualche modo il compito di traghettarvi da quando l'Unione Budista Italiana è stata fondata fino appunto al momento in cui abbiamo grazie al grande lavoro bipartisan questo trovo che sia stato molto importante del senatore Ceccanti e del senatore Malanna siamo arrivati ad avere questa firma che giaceva dal 2000 non solo dal 2007 ma dal 2000 perché la prima firma dell'intesa è stata fatta nel marzo del 2000 quindi l'UBI è stata creata nel 1985 e come ricordava il presidente Scianna è stata la volontà di una persona che era Vincenzo Piga che vivendo a Bruxelles essendo membro del comitato economico sociale dell'Unione Europea ha sempre avuto l'idea di dover creare un'unione buddista e cominciò a Milano appunto 1985 nove centri chiamati a creare questo primo nucleo perché il suo scopo era proprio quello essendo diciamo laureato in legge con Ettore Gallo quindi ha sempre avuto l'idea di mettere in atto l'articolo 8 della Costituzione l'unione buddista per lui era il passo per poter rendere reale nel nostro paese veramente la possibilità per tutti e tutti i buddisti in questo caso ma anche altri perché poi si è sempre adoperato anche per le altre confessioni religiose di avere pieni diritti e piena voce nel nostro paese e quindi si è creato nell'85 l'unione buddista italiana e già nell'87 lui chiese l'intesa ma non eravamo neanche ente di culto e quindi ci disse no no forse prima dovete fare il passaggio per diventare ente di culto e non fu facile perché siamo nel 1991 il consiglio di stato venne chiamato ma il buddismo è una religione o una filosofia domanda che ancora oggi devo dire molti ci pongono e al consiglio di stato venne appunto fu un grande lavoro e devo dire molto interessante perché la sentenza che viene fuori fu sì è una religione una religione anche se non ha un dio anche se non ha un'anima anche se non è una chiesa strutturata ha un aspetto di unione e di trascendenza e a questo lavoro operarono molti fra cui io ringrazio anche qui è presente il professor Corrado Pensa che venne chiamato a dare un suo parere come eminente orientalista su questo tema e quindi il consiglio di stato ci ha dato la possibilità di diventare nel 1991 ente di culto e a quel punto la domanda per l'intesa era un dato di fatto e qui siamo 1991 alla prima richiesta per l'intesa e la domanda ma voi chi rappresentate perché in realtà l'unione buddista rappresenta tutta una serie di scuole nel buddismo sono presenti scuole che vengono dall'India dallo Sri Lanka dalla Cina dal Tibet dal Giappone e quindi un insieme molto variegato che per il legislatore non era facile comprendere e quindi il professor Maselli dice beh voi siete dei congregazionisti e quindi potete farlo ma rappresentando soltanto i vostri centri questo è un dato ben preciso perché l'unione buddista italiana non rappresenta il movimento tutti i buddisti ma rappresenta da coloro che si riconoscono in questo di fatti ci sono anche altre intese con altre tradizioni e quindi noi nel 1991 cominciamo gli incontri con la commissione interministeriale e qui ringrazio molto la dottoressa Nardini il presidente Pizzetti che lavorarono moltissimo per arrivare nel 2020 alla firma dell'intesa che tipo di intesa e anche lì ci fu una grande discussione vi voglio solo dare alcuni punti che furono anche punti di crescita per il movimento buddista italiano nel suo insieme perché normalmente si parla spesso di intese fotocopia il fatto che più o meno riprendono gli stessi temi sicuramente per evitare problemi ricordo Vincenzo Piga dice beh rimaniamo un pochino sul sul tracciato delle altre però certe cose dovevano essere richieste non abbiamo richiesto i matrimoni per esempio il riconoscimento dei matrimoni non abbiamo richiesto il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle istituzioni buddiste diciamo di tipo appunto di istruzione però abbiamo molto lavorato sulla necessità di garantire alcuni punti un punto specifico per esempio sui riti funebri perché per alcune tradizioni presente anche qui c'è una necessità di avere un periodo più lungo prima della inumazione o di altre forme di appunto passaggio e quindi anche quello fu un lungo momento di discussione con il rappresentante del ministro della sanità del ministero della sanità perché perché la legge italiana è molto molto ristretta per questa possibilità appunto di riti funebri ma alla fine ce la facevo per chi è legato che è diciamo membro dell'unione buddista italiana è possibile avere dei riti funebri secondo il proprio credo secondo la propria tradizione un altro punto fu ma come chiamiamo i nostri ministri di culto se non abbiamo un culto e quindi questa dicitura ministri di culto era molto molto stretta e fu una discussione notevole perché all'inizio avevamo chiamati maestri di dharma che per noi ha un senso ma far capire al legislatore che cosa fosse il dharma e anche magari non solo al legislatore era molto difficile per cui in un qualche modo ok ministri di culto se per voi se per lo stato è più comprensibile anche per noi sarà comprensibile anche se al nostro interno sappiamo bene di che cosa stiamo parlando quindi abbiamo insegnanti maestri religiosi laici è tutto un insieme molto ricco di questo per cui la legge passò ma prima di farla passare chiediamo una cosa non molto difficile ma una festa una festa buddista è la prima volta che una festa non della tradizione giudeico cristiana veniva messa nel calendario ufficiale dello stato e anche lì arriviamo a un compromesso perché è una festa lunare ah no un'altra festa lunare ogni anno dovete presentare per il calendario molto complesso e quindi la nostra festa a cui invitiamo ovviamente è l'ultimo weekend sabato e domenica del mese di maggio non segue la luna ma non è quello importante per noi era importante che il Vesak in cui si celebra la nascita il risveglio e la scomparsa del Buddha storico fosse qualche cosa che il nostro paese potesse vedere e quindi la celebriamo ogni anno in diverse città con la possibilità di avere incontri come si diceva prima di dialogo perché ciò che spinge anche l'unione buddista in tutti questi anni è sempre stato la necessità della presenza come si diceva poco fa a tutti i livelli e quindi far conoscere che come si diceva prima non siamo strani quindi siamo andati in commissione non eravamo strani eravamo esseri diciamo senzienti come diciamo normali e capaci di farci conoscere per quello per il valore che possiamo portare per anche un principio di sussidiarietà come si diceva prima che l'unione buddista anche grazie all'otto per mille sta facendo nei confronti di tante associazioni e questo è un momento di crescita perché momento di crescita lupi perché ci fu una lunga discussione che cosa fare con i fondi otto per mille alcuni non li volevano altri li volevano altri fu veramente noi abbiamo un grande istituto l'istituto l'amazon cap a pomaglia che ospitò tre giorni di grandi discussioni prima della firma del 2000 in cui si arrivò a questo seguendo il principio buddista del dana dell'offerta del donare e quindi ciò che ci è stato dato e quindi con la firma per l'otto per mille dell'unione buddista direttamente lo possiamo utilizzare per l'assistenza culto attività culturali attività sociali e appunto legate anche alla comunità tutto quello che viene e abbiamo scelto anche di avere la quota dei resti è per attività umanitarie perché perché noi siamo di passaggio non c'è stato dato direttamente lo abbiamo ricevuto e per questo lo doniamo a tutti attraverso attività che l'UBI da appunto da quando sta gestendo l'otto per mille sta facendo come è stato già indicato dal presidente Scianna quindi abbiamo la necessità di dare di dare e a questo punto di essere qualche cosa di vivo e di presente nel nostro paese abbiamo firmato l'intesa nel 2000 con la presidente Elsa Bianco che purtroppo oggi per motivi di salute non può essere con noi l'abbiamo dovuta però rifare nel 2007 col presidente Raffaello Longo che è qui con noi e con il presidente Prodi per motivi tecnici non fu più discussa ma venne semplicemente firmata cambiò dalla lira agli euro non c'era più l'assistenza non c'era più il servizio militare insomma tecnica e però poi dal 2007 rimase fino a quando questa formula nuova che il senatore Malanna e il senatore Ceccanti trovarono non passammo alla prima commissione affari costituzionali della Camera e la legge diventò una intesa è chiaro che 1985 creazione 91 ente di culto 2000 la prima intesa 2012 la firma e poi l'effettiva passaggio come regio dello Stato che cosa indica secondo me indica che noi abbiamo una grande perseveranza ecco noi come dicono alcuni maestri abbiamo un'entusiastica perseveranza perché per tutti questi anni ce l'abbiamo messa tutta in ogni modo incontrando chiunque mi ricordo il presidente Ciampi il presidente Amato tutti a chiedere però noi sempre lì sempre lì e poi grazie a due senatori anche il governo fu costretto però ecco è importante perché è stata una realtà parlamentare e la nostra perseveranza in qualche modo ci ha permesso di evare al 2012 ma non è un punto d'arrivo lo consideriamo un punto di partenza per un cammino di presenza nel tessuto religioso nel tessuto culturale nel tessuto sociale del nostro paese e spero che sempre con la stessa entusiastica perseveranza i centri UBI e il loro ente esponenziale l'unione buddista italiana possano continuare a fare o almeno mi auguro che continuino a fare per il nostro paese e anche per altri grazie 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 mille alla professoressa Fala e al suo richiamarci alla perseveranza buddista che ovviamente è un tema che condivido profondamente allora lascerei la parola ora facendo un leggero cambio di programma a Maria Teresa Bellucci che è vice ministro per il lavoro delle politiche sociali perché poi purtroppo ci deve lasciare che porta i suoi saluti anche a nome del governo grazie infinite buongiorno a tutti è un grande piacere essere qui e vi ringraziamo dell'invito e ci tenevamo ad esserci ad esserci sicuramente come ministero del lavoro e delle politiche sociali io sono vice ministro al lavoro e delle politiche sociali ma delegata in particolare alle politiche sociali ma anche per portare la vicinanza ai saluti del nostro presidente del consiglio e quindi di Giorgia Meloni è un momento importante per tutti noi perché come ho ascoltato da chi mi ha preceduto e quindi dalla professoressa Fala ogni intesa ogni firma di documenti bilaterali che quindi si basano sul riconoscimento reciproco e anche si fondano sul valore della libera scelta e del dialogo interreligioso costano di un cammino fatto come diceva la professoressa di un'entusiastica perseveranza mi piace molto questo termine che lei ha utilizzato perché in realtà le cose importanti si fondano sempre su un lavoro importante non può essere mai la strada del semplicismo che permette di arrivare a delle conquiste alla costruzione di un dialogo serio e profondo ognuno deve metterci la propria parte e la propria parte è caratterizzata da uomini e donne che mettono sulle loro spalle dentro il loro cuore la loro mente e anche nelle loro gambe la volontà di coprire quelli che sono spazi di distanza che quindi diventano spazi di indifferenza allora io sono molto contenta di essere qui tra voi molto contenta anche di aver sentito la relazione della professoressa Falà perché dalle sue parole c'è proprio la viva presenza della volontà di riempire quegli spazi di distanza che poi sono stati rappresentati da lei ma da tutti voi io mi scuso perché appunto dovrò lasciarvi anzitempo non è la la volontà diciamo di distanziarmi da voi ma invece è la difficoltà a volte di ricoprire l'incarico e quindi di dover essere in più luoghi a volte quasi contemporaneamente e lì insomma c'è il limite umano che ovviamente ci crea difficoltà allora rispetto a questo quindi la celebrazione del decennale quindi di questa firma dell'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione Buttista italiana la consideriamo un momento certamente storico che ha permesso di creare un dialogo aperto e costruttivo quindi tra lo Stato italiano e la comunità Buttista favorendo quella che è proprio una piena collaborazione legata all'attività culturale all'insegnamento religioso al servizio militare all'assistenza spirituale alla cultura alla solidarietà un po' quello che tratteggiava la professoressa prima oggi dopo dieci anni possiamo affermare devo dire con orgoglio che l'intesa è stata un successo allora sì c'è molta strada da percorrere perché in realtà le conquiste sono un punto di arrivo ma sono anche un punto di partenza per costruire ancora meglio ma non bisogna mai credere questo lo impariamo anche in questi mesi che ogni conquista rimane lì ferma indipendentemente da quello che ereditano le persone che arrivano dopo in realtà ogni giorno deve essere riaffermata rivitalizzata l'abbiamo visto con la pace lo stiamo vivendo appunto dicevo in questi mesi con la pace credevamo di vivere decenni di pace in realtà questo è stato spazzato via in un tempo così veloce distruggendo quella convinzione che l'Europa e che nel cuore dell'Europa ci fosse pace e non ci fossero confitti bellici questo ci conferma per l'ennesima volta che dobbiamo difendere il valore della pace il valore dell'amore il valore della solidarietà dell'incontro dai popoli il valore del dialogo interreligioso e questo dipende da ciascuno di noi e ciascuno di noi ne è responsabile certamente prima di tutto le istituzioni quindi allo stesso tempo lo Stato italiano ha dimostrato la sua capacità di adattarsi alle esigenze di una società che è in continua evoluzione garantendo la libertà di religione e il rispetto anche delle diversità culturali in cui crediamo fermamente non sempre però ciò è successo non sempre questo è vero ovunque nel corso proprio del ventesimo di questo ventesimo secolo milioni di esseri umani sono state vittime innocenti e ancora attualmente sono vittime innocenti di ideologie politiche di odio religioso e anche etnico anche in questo momento stanno perdendo la vita centinaia di migliaia di persone che fanno una scelta libera la scelta libera che riguarda la propria religione la propria fede e che per questo vengono perseguitate fino a perdere la propria esistenza e in un modo o nell'altro hanno cercato quindi di estinguere in questi luoghi e di limitare il diritto della persona di essere libero e di poter quindi liberamente scegliere la religione anche oggi vi sono paesi come si può evincere dall'ultimo rapporto disponibile nel mondo dall'aiuto alla chiesa che soffre del 2021 e si può quindi verificare come in 62 paesi ci sono violenze legate alle libertà religiosa di cui 36 paesi vengono attuate in 36 paesi di discriminazioni e in 26 paesi vi è una vera e propria persecuzione religiosa di conseguenza un paese su tre nel mondo vede la libertà religiosa non rispettata partiamo e parliamo del 67% della popolazione mondiale che vive che vive in paesi dove questo non avviene oltre però alla persecuzione vera e propria ve ne è un'altra ancora più insidiosa ancora più insottile e questa persecuzione è proprio quella che entra nelle pieghe di una società democratica anche e che dovrebbe essere democratica e che relega nell'ambito dell'opinione privata le credenze religiose nei suoi membri e le convinzioni morali che derivano dalla fede in particolare come ben ci rendiamo conto tutti quanti ci sono problemi morali nel nucleo di ciascuna grande questione pubblica in questo senso il governo che qui ho l'onore di rappresentare promuove un genuino pluralismo religioso così come incoraggia un discorso pubblico vigoroso e rispettoso dobbiamo andare all'essenza anche dell'aspetto spirituale ed etico nei passaggi che riguardano le leggi e che riguardano l'agire delle istituzioni un dileologo anche tra le diverse fedi è che è aperto alla verità oggettiva la quale può essere conosciuta e a cui si può aderire e non è condizionata da una visione a religiosa e a morale preconcetta della persona umana e della comunità umana quello che mi preme qui ribadire e so che qui trovo persone sensibili a questo tema è che la libertà religiosa è il culmine di tutte le libertà questo era l'obiettivo dell'intesa quando fu firmata il 4 aprile del 2007 ribadita nella legge del 2012 quello è dato rintracciare nei due documenti e in tutte le intese che lo Stato italiano ha firmato fin qui in materia è la concezione della libertà religiosa come un diritto sacro inalienabile della persona umana questi comporta sia la libertà individuale collettiva di seguire la propria coscienza in materia religiosa sia la libertà di culto include la libertà di scegliere la religione che si crede di essere vera e di manifestare pubblicamente la propria credenza deve essere possibile professare e manifestare liberamente la propria religione e i suoi simboli senza mettere in pericolo la propria vita la propria libertà personale la libertà religiosa è radicata nella dignità della persona e garantisce la libertà morale e favorisce il rispetto reciproco di questo ne siamo particolarmente convinti il percorso istituzionale delle intese che qui sicuramente ripercorrete in dettaglio come ho visto già fare dalla professoressa Falà può essere dettato a partire dall'intesa firmata con la tavola valdese dell'84 si trattava di una trasformazione attesa da tempo dall'entrata in vigore della costituzione che per anni in questa materia era rimasta inattuata i mutati patti lateralensi dell'11 febbraio del 1929 fra l'altro proprio ieri eravamo all'ambasciata italiana presso la Santa Sede per l'anniversario dei fatti lateralensi tra lo Stato italiano e la Santa Sede e io ho avuto la possibilità di parteciparvi come rappresentante del governo proprio per quanto riguarda la materia delle politiche sociali del terzo settore della difesa e della tutela dei più fragili del valore dell'inclusione sociale che deve essere capisaldo quindi di ogni azione di governo nonostante quindi i fatti lateralensi del 1929 nonostante il nuovo contesto costituzionale ferme le altre confessioni religiose e la coeva delle leggi sui culti ammessi nonostante la previsione costruzionale delle intese il disgeno degli anni 80 aveva poi certamente portato all'accordo del 1984 e al conseguente avvio di una nuova e feconda stagione all'insegna della libertà deligiosa anche dal punto di vista dell'interculturalità l'intesa rappresenta un buon esempio di collaborazione tra Stato italiano e UBI la biodiversità culturale è un aspetto fondamentale nella nostra società e il dialogo e la collaborazione tra culture diverse sono essenziali per favorire l'integrazione e la convivenza pacifica attraverso l'intesa quindi lo Stato italiano e l'unione buddista italiana hanno dimostrato la loro capacità di collaborare in modo efficace favorendo la costruzione di ponti e non invece di muri tra le diversità culturali e tradizioni allargando e riembustendo gli spazi di crescita e dando così piena attuazione a quello che è l'articolo 8 della nostra Costituzione in conclusione l'intesa di cui oggi celebriamo il decennale rappresenta un importante esempio di collaborazione quindi interculturale interreligioso di tutela dei diritti umani e di promozione della pace e della moronia tra le diversità e tra le diverse religiose e si rappresenta quindi un importante passo avanti verso una società più giusta più solidale più sociale equa e pacifica in questo documento esprimiamo quindi la nostra gratitudine alla comunità buddista italiana per il loro fattivo contributo alla nostra società e ribadiamo l'impegno quindi del nostro governo a garantire che la libertà di religione e le diversità culturali siano sempre rispettate e tutelate in Italia e questo certamente dovrà essere caratterizzato sempre e comunque da una entusiastica perseveranza di ciascuno di noi grazie 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 davvero al viceministro Bellucci devo dire che questa vicinanza calorosa dello stato e del governo ci rincuora e ci aiuta a costruire ponti e a continuare a costruirli per cui grazie grazie davvero passiamo alla seconda parte del nostro convegno di questa mattina che riguarda l'importanza delle intese con le diverse confessioni religiose dal punto di vista costituzionale ed ecclesiastico e a questo proposito lascio immediatamente la parola alla professoressa Daria De Pretis che oltre che essere una costituzionalista è la vicepresidente della corte costituzionale grazie professoressa per essere con noi grazie sì l'abbiamo sentito celebriamo un decennale però le date sono molte che si appollano dietro questo decennale e io anche senza avere sentito prima quello che qui è stato detto stamattina mi ero già scritta che ci sono almeno tre date in questo decennale che sono importanti anche dal punto di vista costituzionale e dalle quali prendo le mosse per la mia relazione perché se evidentemente la data del 31 dicembre 2012 è un passaggio decisivo nella vita della ormai numerosa comunità di coloro che professano la fede buddista nel nostro paese certamente quella data quella vicenda si è conclusa così felicemente perché alla base di quella legge c'era l'intesa del 2007 fra l'altro prima dell'intesa del 2007 ce l'ha ricordato la professoressa Palaccia era quella del 2000 e però c'è anche una terza data importante che è stata ricordata che è il 3 gennaio 1991 quando con DPR fu riconosciuta l'unione buddista come ente di culto perché questo riconoscimento di una realtà l'abbiamo sentito composita variegata articolata ha costituito un presupposto decisivo per la trattativa che ha condotto all'intesa perché ha consentito allo Stato di avere un unico interlocutore rappresentativo di diverse tradizioni buddiste presenti nel nostro paese e questa circostanza merita secondo me una particolare evidenza come dirò fra poco il nostro incontro odierno lo sottolineo perché so che questo sta particolarmente a cuore agli organizzatori aspira ad andare oltre la semplice celebrazione di un fatto pur importante ovviamente e vuole essere un momento di bilancio su un piano di maggiore concretezza ciò che la intesa ha prodotto la legge di approvazione intesa ha prodotto in concreto nei dieci anni della sua vita e anche una riflessione sulla funzione delle intese e in questa logica vorrei svolgere anche il mio intervento come è stato detto io faccio parte in questo momento della corte costituzionale sono una giurista e il mio intervento vuole ad avere ad oggetto la rilevanza costituzionale delle intese con le confessioni religiose quindi mi soffermerò dapprima sul quadro costituzionale e sul senso che in esso presenta l'istituto dell'intesa e poi mi vorrei spostare a considerare come questa specifica vicenda dell'intesa con l'unione buddista italiana ci permetta di mettere in evidenza particolari potenziali strumentalità dell'intesa in funzione della realizzazione di fini di rilevanza costituzionale già alcune cose sono state dette provo a metterle in ordine appunto con lo sguardo di chi ha quell'angolo visuale l'angolo visuale della nostra costituzione nostra costituzione che non si limita a garantire la libertà religiosa sia in forma individuale che in forma associata ma in più punti rafforza questa garanzia assicurando l'effettivo esercizio di questa libertà con previsioni che hanno portato una parte degli studiosi del diritto costituzionale ed ecclesiastico di a riconoscere nella costituzione anche nel quadro di fondo della laicità dello Stato un vero e proprio favor religione un favore per la religione che si desume da una serie di articoli io non mi voglio impugnare qui su questo tema ma certamente si collocano in questo orizzonte anche le previsioni costituzionali che si dedicano proprio alla religione e fra queste in particolare l'articolo 8 più volte citato che assicura una garanzia in più alle confessioni religiose rispetto a quella che è garantita in generale dall'articolo 2 della Costituzione a tutte le formazioni sociali le formazioni sociali hanno un rango particolare nella Costituzione ma quelle religiose ce l'hanno un po' di più all'articolo 8 infatti si stabilisce che tutte le confessioni religiosi hanno uguale libertà davanti alla legge tutte hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti nel rispetto naturalmente dell'ordinamento generale e poi questo è il punto che ci interessa i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le loro rappresentanze quindi c'è una combinazione fra legge e intesa che costituisce il punto di equilibrio che sta fra la scelta politica dello Stato che si esprime nella legge e l'accordo fra le parti che si esprime nell'intesa la scelta politica dicevo spetta allo Stato e qui la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi di sottolineare come le considerazioni che portano a quella scelta politica sono considerazioni politiche altamente discrezionali sono la considerazione di motivi e vicende uso le parole della Corte che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni e internazionali offre copiosa questa è la scelta che si esprime nella ratifica dell'accordo ma si esprime anche nella scelta di avviare le trattative che è rimessa alla stessa discrezionalità poi c'è l'accordo fra le parti che definiscono pattiziamente i contenuti e i loro i contenuti dell'intesa e in particolare i loro rapporti è quindi un equilibrio che si esprime in una struttura a due fasi nella quale il momento dell'intesa è naturalmente molto importante e io vorrei sottolineare qui almeno tre aspetti di questa rilevanza il primo è che in assenza di una legge generale sulla libertà religiosa c'è la previsione costituzionale ma manca una legge viene chiamata la legge che non c'è proprio in questi giorni si sta facendo un convegno che ha questo titolo la legge che non c'è in assenza di una legge di questo tipo è chiaro che l'intesa costituisce pur sempre pur in un quadro ripeto di libertà garantita per tutti comunque anche al di là dell'intesa la corte costituzionale lo sottolinea costituisce per l'impresa che la stipula uno strumento che concorre all'effettiva garanzia delle varie possibilità di espressione di questa libertà e offre una base regolatoria a molti profili concreti che riguardano le attività della confessione soprattutto quando mettono in gioco rapporti con le istituzioni dello Stato questo è il primo aspetto che sottolineo il secondo è la natura fattizia l'ho già detto questa natura alla base della regolazione c'è un accordo Stato e confessione religiosa e la Corte Costituzionale ha messo in evidenza come questa bilateralità della definizione dei rapporti sia frutto di una soluzione voluta dal Costituente nella direzione di estendere anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica quel metodo della bilateralità che la Costituzione prevede all'articolo 7 proprio con riferimento alla religione cattolica il terzo profilo che è forse più da giurista ma penso che possa essere apprezzato anche da un non giurista è quello del rango che viene ad acquisire così la fonte la fonte del diritto che è un rango di particolare resistenza il carattere di resistenza di quella legge perché quella legge può essere modificata soltanto previa la modifica a monte dell'intesa quindi questo conferisce a quella legge una forza di resistenza eccezionale diversa dalle altre leggi è un punto che come dire è formale ma è anche sostanziale perché uno può immaginare che potrebbero accadere delle cose che potrebbero portare lo Stato a voler modificare unilateralmente la legge ciò che non è possibile fare se la confessione religiosa non è d'accordo va bene detto questo qual è allora la funzione dell'intesa occupandosi del rapporto fra libertà religiosa e intesa la Corte Costituzionale ha sottolineato che nel sistema costituzionale le intese non sono la condizione l'ho già detto ma uso le parole della Corte non sono la condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della loro libertà la libertà è garantita a prescindere dall'intesa secondo questa impostazione della Corte l'intesa dovrebbe essere diretta a rispondere a specifiche esigenze connesse a peculiari caratteri della singola confessione religiosa dando rilevanza a particolari profili di loro interesse o stabilendo concedere particolari vantaggi imporre anche particolari limitazioni ora se questi sono gli obiettivi astratti della intesa quindi una conformazione della disciplina alle specifiche esigenze della confessione religiosa la prassi risponde poco a questo quadro perché come ci è stato ricordato prima la prassi delle numerose intese che sono state stipulate dallo Stato è una prassi di sostanziale uniformità certo ci sono dei profili differenti la professoressa Fala ricordava prima il fatto che questa intesa non prevede nulla sul matrimonio che prevede invece delle cose speciali per i riti funebri però ci ha anche detto che i ministri di culto li abbiamo dovuti chiamare ministri di culto e non come magari si sarebbe voluto chiamarli diversamente da quella religione ecco quindi insomma non si può non interrogarsi sullo iato che c'è fra la soluzione istituzionale che dovrebbe essere programmaticamente orientata alla differenziazione e invece una prassi che con la sua uniformità questa funzione conformatrice nega o comunque mette fortemente in discussione al punto che insomma oggi l'unica vera differenziazione sta nel fatto del sta fra confessioni con intesa e confessioni senza intesa e allora alla domanda quale è la funzione dell'intesa più che dare risposte astratte che poi attingerebbero a queste considerazioni che ha fatto è forse più giusto e fruttuoso rispondere guardando alla realtà fattuale e al ruolo che l'intesa non in astratto ma in concreto ha svolto incidendo sia sulla vita delle confessioni interessate sia su quella della società civile trasformandone i reciproci rapporti rafforzandone in essi e io credo favorendone l'integrazione è stata usata più volte la parola ponte e a questo riguardo la vicenda dell'intesa con l'unione buddista con la vostra unione offre spunti di particolare interesse non entro nei contenuti dei quali in qualche modo è già stato seppure succintamente detto ma entro appunto ma mi soffermo sul ruolo dell'intesa come strumento di collegamento come cerniera fra una comunità religiosa e una comunità statuale più ampia in questa esperienza nella vostra esperienza infatti l'intesa si è mostrata uno strumento particolarmente ricco e versatile almeno da quattro punti di vista come strumento di composizione e di dialogo come cinghia di collegamento fra religione e realtà secolare come strumento di integrazione di comunità diverse di comunità che provenienti da altri paesi e comunità indigena ma a sua volta complessa e come infine quarto come strumento di sussidiarietà anche questa è una parola che è già stata usata ce ne potrebbero essere molte ma io soffermo molto brevemente la mia attenzione su queste quattro su questi quattro punti di vista l'intesa come strumento di composizione e di dialogo non dico nulla di nuovo rispetto a cose che sono state dette accento soltanto forse soltanto la prospettiva giuridica ricordavo prima l'ampia discrezionalità politica del governo nella scelta di addivenire all'intesa il governo in alcuni casi non ha voluto addivenire all'intesa questa scelta è stata portata alla corte costituzionale che ha detto noi ci dobbiamo fermare perché qui la discrezionalità è estrema una discrezionalità simmetrica naturalmente come sempre accade quando si devono fare accordi spetta alla controparte religiosa e dunque spettò allora all'unione buddista quando decise di istituire rapporti con lo Stato chiedendo la stipulazione dell'intesa e poi contrattando per il suo contenuto quindi se l'accordo raggiunto con lo Stato è già di per sé espressione di un dialogo riuscito non deve essere sottovalutato il dialogo che sta a monte dell'accordo stesso e che è sfociato nell'istituzione dell'intesa è per questo che ho sottolineato la data del 91 perché l'impegno mostrato dalle varie componenti della più vasta comunità buddista per riuscire a offrire allo Stato un interlocutore unico superando le diversità di tradizioni che derivano come è stato ricordato da una storia millenaria da radici geografiche anche molto distanti fra loro e da sviluppi altrettanto variegati beh quell'impegno è stato esso stesso esemplare per questo ho sottolineato quella data quando la data di quando l'Unione ottenne il riconoscimento come ente di culto rappresentativo delle tradizioni buddiste in essa associate parlando di confessioni religiose non dobbiamo traspurare il fatto che la materia dogmatica è per sua natura divisiva molto divisiva e che comporre anime diverse richiede uno sforzo probabilmente superiore a quello richiesto quando si tratti di trovare compromessi su temi concreti o su interessi che comunque sono entro certi limiti normalmente negoziabili ebbene la comunità buddista pur coinvolgendo come dicevo più tradizioni ha saputo offrirsi come fonte di dialogo e di composizione di diversità in questo sicuramente ispirata dai valori di apertura saggezza generosità e rispetto per gli altri su cui si fonda ma ispirata anche da valori che sono in sintonia con quelli del dialogo e della solidarietà immanenti alla nostra costituzione e alla tradizione da cui essa stessa promana in questo contesto di valori la vicenda che stiamo esaminando offre una dimostrazione di come religione e libertà religiosa libertà ad essa garantita per quanto sia una libertà prima di tutto preordinata a soddisfare un bisogno spirituale fondamentale dell'uomo queste due religione e libertà di professarla siano strumenti di potenziale composizione di diversità se non addirittura di composizione di conflitto secondo punto l'intesa come ho detto cerniero cinghia di collegamento fra religione e realtà secolare l'intesa funziona da ponte fra religione e istituzioni soprattutto nei contenuti che tendono a contemperare esigenze che possono essere contrapposte un contemperamento che può non essere facile soprattutto per le religioni più mistico contemplative che sono più portate a coltivare il momento meditativo e introspettivo che proiettate nel contatto con la realtà secolare ecco a maggior ragione dunque in questo caso l'intesa opera come cerniera della confessione con la realtà circostante consentendo alla religione di coltivare accanto alla dimensione della religione dell'anima anche il collegamento con le dinamiche sociali e in una certa misura anche politiche della comunità nazionale un esempio virtuoso quello dell'unione buddista che si è impegnata nel sostenere con le sue risorse come abbiamo sentito molte attività dirette al raggiungimento di figli sociali e anche come risulta dal report che ha sullo sviluppo sostenibile nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dando conto di questa sua attività terzo punto mi avvio brevemente alla conclusione è l'intesa come strumento di integrazione di comunità che vengono da fuori anche su questo ci sarebbe molto da dire perché l'intesa offre a queste comunità nuove e qualificate opportunità di una migliore integrazione dando rilievo giuridico e visibilità alla loro partecipazione alla vita istituzionale e sociale del paese e anche in questo l'intesa opera come un enzima di coesione nella prospettiva di un beneficio reciproco come sempre l'integrazione di chi si integra e di chi accoglie integrando e infine l'intesa come strumento di sviluppo della sussidiarietà c'è stato ricordato all'inizio del presidente Shah poi è stato ripreso il tema dalla professoressa Falà l'unione e le comunità che rappresenta hanno operato moltissimo nel tessuto sociale sono intervenute come è stato detto proprio dove c'era più bisogno collaborando con le istituzioni e con altre realtà l'apporto delle confessioni religiose alla socialità diffusa ben si presta ad essere definito nell'ambito della sussidiarietà orizzontale come una vera e propria sussidiarietà religiosa sulla scia di una tradizione che per lungo tempo nel nostro paese si è risolta nel rapporto con la chiesa cattolica che risulta invece oggi molto più composita e ricca qui non faccio riferimento alle specifiche attività considerate nell'impresa nella intesa ricordo che il report al quale ho già fatto riferimento espone una cospicua e variegata serie di azioni orientate agli obiettivi di sviluppo sostenibile si tratta di un apporto che è corretto ricondurre a quella autonoma iniziativa dei cittadini di cui parla l'articolo 118 quarto comma della costituzione che prevede appunto che essi i cittadini organizzati singoli organizzati possano lavorare per lo svolgimento di attività di interesse generale e che le istituzioni devono favorire questa attività quindi l'interesse generale non è monopolio delle istituzioni pubbliche ma è qualche cosa che può essere realizzato dai cittadini direttamente e in questo senso la intesa che garantisce la confessione religiosa diventa anch'essa strumento di sussidiarietà in ragione del contributo offerto dalla confessione al benessere generale e questo credo che sia un dato non privo di rilievo e che meriti di essere segnalato come è merita di essere segnalata e qui davvero concludo anche la rendicontazione operata con il suo record dalla Unione l'Unione come ricorda nella sua presentazione afferma di avere sposato in questo l'idea conforme ai principi e ai valori della tradizione buddista di una valutazione che misuri l'impatto di quanto realizzato ma questo stesso misurare rendere conto di ciò che è stato fatto corrisponde a un principio costituzionale di responsabilità l'Unione risponde così nel suo ambito e con le sue modalità nell'esercizio dei diritti e della libertà che la Costituzione le garantisce alla richiesta di adempiere a quei doveri inderogabili di solidarietà con cui la Costituzione stessa all'articolo 2 accompagna il riconoscimento delle garanzie dei diritti in conclusione partendo dall'esperienza dell'unione buddista ho cercato di ricostruire potenzialità dello strumento dell'intesa come cerniera fra confessione religiosa e stato non spetta a me giudicare quanto in concreto è stato realizzato nei dieci anni di questa intesa ma certo alla luce della Costituzione gli aspetti che ho provato a sviluppare sembrano più che un buon indizio per un giudizio positivo di questa esperienza vi ringrazio grazie davvero alla professoressa De Pretis e devo dire che essere letti attraverso l'analisi di un costituzionalista ci offre uno spaccato della nostra vita e ci dà anche la responsabilità di un ulteriore passo di maturazione per cui grazie davvero per gli spunti e per l'analisi è il momento a questo punto del professor Marco Ventura che è un giurista dell'Università di Siena sempre all'interno di questo secondo panel di relatori grazie mille professor Ventura buongiorno buongiorno ognuna delle tredici intese firmate dal 1984 lasciando da parte la vicenda dei testimoni di Geova ha una sua peculiarità una sua storia e un suo significato ognuna è a suo modo unica per qualcosa in alcuni casi però l'unicità supera l'ambito della specifica confessione religiosa interessata alcune intese hanno un particolare valore generale valgono per tutti è stato così per l'intesa con la tavola valdese del 1984 che è stata la prima di tutte o per l'intesa con l'unione delle comunità ebraiche del 1987 che è stata la prima con una confessione non cristiana l'intesa del 2013 su cui ci confrontiamo in questa giornata speciale in questa sede prestigiosa appartiene proprio a questa categoria al novero delle intese il cui significato travalica la singola confessione per marcare una svolta nello sviluppo del diritto ecclesiastico cioè del diritto dello Stato sul fenomeno religioso del diritto costituzionale e più in grande nella storia civile e religiosa del paese in questo intervento vorrei presentare tre motivi per i quali l'intesa tra lo Stato e l'unione buddista italiana va collocata tra le intese storiche quelle di cui si può dire che hanno rappresentato una svolta li anticipo ora prima di analizzarli brevemente di seguito si tratta in primo luogo dell'interpretazione elastica del concetto di confessione religiosa che ha disinnescato l'argomento non debole all'epoca del buddismo non religione o del buddismo pseudo religione e dunque scongiurato il rischio di un blocco o almeno di un ancor più lunga dilazione del processo in secondo luogo della pluralità della confessione religiosa in questione dunque dell'unione buddista italiana stessa e infine in terzo luogo dell'originalità del percorso intrapreso almeno dal 1985 anno di costituzione dell'unione buddista italiana fino al 2000 lo ripeterò anch'io anno di firma dell'intesa poi congelata al 2007 anno di firma della nuova intesa al 2013 12-13 diciamo anno della legge e ancora direi soprattutto nei dieci anni trascorsi dall'ora quello che ricordiamo oggi infatti non è un punto d'arrivo anche se l'intesa naturalmente fu in qualche modo anche un punto di arrivo non è un evento finito ma è un punto di partenza un evento che si è rinnovato nel tempo e dunque elasticità pluralità e originalità vediamole ora nell'ordine l'elasticità la costituzione repubblicana non offre una definizione di confessione religiosa che è l'attore chiave l'espressione chiave l'attore chiave dell'articolo 8 così come non offre una definizione di fede religiosa e di culto che sono i termini chiave dell'articolo 19 se ne deduce che lo stato e i suoi organi debbano evitare quanto più possibile di impegnarsi in una definizione sempre pericolosa e che quando non possono farne a meno debbano dar prova di elasticità interpretativa così è stato per il parere del consiglio di stato del 29 novembre 1989 è una paginetta ma una paginetta importante che ha sgombrato il percorso verso l'intesa dalla possibile obiezione l'ho anticipata che il buddismo non fosse una religione discutendo la via all'erezione in ente morale dell'unione col dpr 3 gennaio 1991 ai sensi della legge 1159 del 29 la cosiddetta legge sui punti ammessi negli anni precedenti al parere del consiglio di stato dell'89 che ricordiamoci furono molto influenzati anche a causa di alcuni fatti di cronaca dal dibattito sulle sette sul pericolo delle sette religiose e proprio nell'imminenza dell'emissione del parere in quei mesi precedenti al fine novembre 89 non erano mancati in realtà voci contrarie in alcuni ambienti cattolici che si ritenevano erroneamente autorizzati dai vertici della chiesa e proprio nell'ottobre 89 un mese prima del parere del consiglio di stato l'allora cardinal Ratzinger aveva firmato un documento della congregazione per la dottrina della fede dedicato all'incompatibilità della meditazione orientale con la preghiera cristiana e tuttavia in quel documento si era riferito alle cito religioni orientali e alle cito ancora grandi religioni non cristiane il documento dunque confermava da un lato la preoccupazione dei cattolici per l'influenza tra l'altro del buddismo ma indirettamente sconfessava chi avesse utilizzato l'argomento della non natura religiosa del buddismo per ostacolarne la presenza l'intesa con la rappresentanza di una confessione non teista di origine orientale non medio orientale è una prima volta storica e questa è la prima svolta da situarsi cronologicamente lo ripeterò ancora dunque più di dieci anni prima dell'intesa del 2000 quasi venti dall'intesa del 2007 e quasi venticinque anni prima della legge di approvazione ora si coglie la svolta con i termini elasticità perché fu necessaria ai vari livelli dello Stato a cominciare appunto dagli organi della giustizia amministrativa in funzione consultiva parere del Consiglio di Stato per proseguire poi con le varie articolazioni dell'esecutivo una interpretazione che da un lato cogliesse la più vera grammatica costituzionale nella tutela del fenomeno religioso e sta stessa fondata sull'elasticità dell'interpretazione nel tempo rispetto a istanze e fenomeni non prevedibili nel 47 e dall'altro fosse a sua volta elastica nella lettura del buddismo in Italia come si doveva ad un'esperienza religiosa eminentemente elastica a sua volta come appunto quella buddista soprattutto si è osservata con gli occhiali della tradizione dottrinale giuridica cristiana ci riferiamo qui in particolare al ridotto margine di discrezionalità amministrativa del Ministero dell'Interno e all'ampio margine di discrezionalità politica della Presidenza del Consiglio nella negoziazione e conclusione dell'intesa e poi del Parlamento nel voto dunque è perché si rispetta l'elasticità della Costituzione che si ragiona con elasticità come era necessario fare era doveroso fare circa la natura religiosa del buddismo le due elasticità quella della Costituzione debitamente rispettata dall'autorità dello Stato ai vari livelli e quella specifica nella ricognizione della natura dell'unione buddista italiana sono dunque la prima svolta la seconda svolta riguarda la pluralità del buddismo italiano senza sottovalutare naturalmente la pluralità delle altre confessioni a cominciare proprio dalla convergenza valdo metodista in vista dell'intesa dell'84 la stessa unione delle comunità ebraiche lo dice il termine stesso mai prima tuttavia un'intesa era stata sottoscritta dal governo con i rappresentanti di una confessione religiosa tanto ricca e plurale nelle sue scuole nelle sue tradizioni e lignaggi e poi per i centri fondatori successivamente aderenti per le origini storiche geografiche culturali e poi per tecniche pratiche attività se di svolta della pluralità si può parlare peraltro perché tale pluralità non si è limitata staticamente alle tradizioni e ai centri come si può essere indotti a pensare se si ragiona unicamente in termini di statica pluralità dei centri fondatori dell'unione si tratta di svolta perché la pluralità è sostanziale perché si è istituzionalizzata nel processo federativo sfociato nella costituzione dell'unione buddista del 1985 perché è divenuto un tratto distintivo della sua rappresentanza rappresentanza tra virgolette perché qui usiamo il termine dell'articolo 8 della costituzione già che ha strutturato il processo verso l'intesa l'intesa stessa e la sua attuazione in questi dieci anni nei confronti dello Stato la pluralità raccolta nell'unione semplifica il raccordo con le autorità ed esemplifica la capacità dei buddhisti di legare di unire questo è stato già detto in particolare da Dalia De Pretis questa pluralità raccolta nell'unione che semplifica il rapporto con l'autorità dello Stato nei confronti della società la pluralità dell'unione è manifesto di libertà di convergere e di aderire di federarsi ma anche di non federarsi come ben dimostra la scelta alternativa dei buddhisti della Soka Gakkai pervenuti a loro volta all'intesa nel 2016 dopo la firma l'anno precedente e poi il manifesto di integrazione europea attraverso la partecipazione dell'unione alla European Buddhist Union che era stata fondata nel 75 e ancora di inclusione in particolare attraverso il dialogo tra i buddhisti cittadini italiani e i buddhisti cittadini stranieri anche questa grande espressione di pluralità poi all'interno del buddismo italiano infine la pluralità risiede nella varietà delle componenti a partire dalla suddivisione in centri monasteri e templi e poi nello spazio con l'ampia distribuzione sul territorio nazionale pur nella prevalenza al nord e poi nei luoghi di culto e ancora nel tempo il passaggio richiamato già stamattina dai nove centri fondatori agli attuali 64 ancora la pluralità risiede nell'autonomia delle componenti è sempre una pluralità quantitativa e qualitativa da un certo punto di vista nella loro coesione nell'architettura istituzionale anche nella gestione delle tensioni dei conflitti sui quali l'unione è naturalmente sempre discreta ma mai omertosa direi nei continui aggiustamenti piccoli e grandi nelle norme nelle attività e anche nella comunicazione come dimostra recentemente la scelta del mutamento del logo anche qui l'unione è attua all'articolo 8 mentre si fa rappresentanza persino attraverso il logo diciamo così la pluralità incarna anche il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 8 stesso di organizzarsi secondo i propri statuti cioè di organizzarsi a proprio modo di essere se stessi la pluralità in tal senso è l'altra faccia dell'originalità cioè della terza svolta di cui ora parliamo dunque perché non irrigidisce in definizioni l'elasticità perché accoglie il pluralismo la costituzione repubblicana incoraggia l'originalità si intende innanzitutto l'originalità delle confessioni nella loro forma e nella loro sostanza nella fedeltà delle loro tradizioni nei loro percorsi nella loro interlocuzione con lo Stato si intende poi l'originalità delle soluzioni istituzionali degli strumenti individuati del loro uso dei meccanismi sperimentati anche in questo l'intesa approvata nel 2013 ha rappresentato una svolta non è stata lo abbiamo già sentito un'intesa fotocopia in parte l'originalità è stata incoraggiata dagli ostacoli la prima firma del 2000 poi disattesa per sette anni a causa e non è un attenuante dell'aggancio all'intesa con i testimoni di Geova e l'ulteriore attesa tra il 2007 e il 2013 ce l'ha ricordato Maria Angela Falà hanno indotto l'unione a farsi particolarmente creativa nei contatti informali ma anche in iniziative più strutturate come la coalizione per le intese costituitasi nel 2008 al medesimo contesto appartiene l'altro elemento di originalità costituito dall'approvazione in commissione anche questo ci è stato raccontato stamattina da Stefano Ceccanti dunque l'approvazione presso la prima commissione affari costituzionali in sede legislativa non in aula l'originalità tuttavia non è stata solo reattiva difensiva per l'intera fase preparatoria per i dieci anni di vita dell'intesa l'originalità è stata un tratto distintivo dell'unione dai contenuti voglio ricordare anche io la posizione sul matrimonio assente dall'intesa le norme sui riti funebri alle istituzioni ricordo anch'io i ministri di culto gli strumenti come l'otto per mille fino al rapporto di missione di questi giorni che è un'altra grande manifestazione di originalità con questo approccio l'unione buddista italiana ha preso posizione più o meno consapevolmente rispetto alla grande sfida del diritto ecclesiastico italiano quella di rifiutare rigidità prive di fondamento costituzionale e di esigere che la pur fisiologica discrezionalità politica ed amministrativa degli organi dello Stato non diventi lo strumento attraverso il quale conculcare l'esercizio dei diritti fondamentali possiamo far risalire questa sfida del diritto ecclesiastico ai maestri che a cavallo tra 800 e 900 inventarono il diritto ecclesiastico nel nuovo habitat del diritto pubblico liberale pensiamo a Francesco Ruffini essa si è fatta poi cruciale naturalmente nella stagione aperta si con la carta costituzionale la carta infatti non prescrive procedure non attribuisce competenze se non implicitamente al governo per la stipula di un'intesa e al Parlamento per la sua approvazione in particolare circa lo status delle confessioni religiose grazie in qualche modo al modello della Chiesa Cattolica la carta non prevede riconoscimenti che siano sovrane come appunto nel caso della Chiesa Cattolica o che non lo siano le confessioni sono indipendenti dallo Stato esse sono tali confessioni e in quanto tali titolari dei diritti costituzionalmente garantiti a prescindere da qualsivoglia riconoscimento il nostro sistema non conosce e ne siamo fieri la categoria di confessione riconosciuta e quindi di confessione non riconosciuta se si parla di riconoscimento è in relazione ad altro di molto minor momento ciò significa che il nostro modello costituzionale e il valore di quel modello risiedono nella libertà dunque nell'originalità con cui i soggetti religiosi in dialogo con gli attori sociali e le autorità civili danno forma e senso alla storia dei loro rapporti con lo Stato siamo siamo alla conclusione se l'intesa del 2013 ha marcato una svolta non soltanto per i buddhisti italiani ed internazionali ma per tutti credenti e non credenti è in virtù del suo significato per l'elasticità la pluralità e l'originalità cui la Costituzione ci invita ad ispirare le relazioni tra Stato società e confessioni religiose questa prima intesa con esponenti di una tradizione religiosa non medio orientale non abramitica senza un pantheon di divinità ha manifestato quella elasticità della condizione della concezione di religione di fede di culto che la Costituzione ha voluto a tutela di tutti nei vari tempi e nei vari contesti questa prima intesa con una confessione religiosa dalla storia e dalla struttura federative tanto complesse ha manifestato la pluralità dei modi di espressione e di organizzazione del religioso che la Costituzione ha inteso tutelare per coerenza con l'impianto pluralista dell'Italia repubblicana e per rispetto verso la società plurale che si intravedeva nel 48 e che siamo sempre più divenuti in questi 75 anni questa prima intesa con una confessione religiosa tanto originale nella sua propria organizzazione nell'interlocuzione con lo Stato nelle resistenze incontrate superate nei 13 anni intercorsi dalla prima firma alla legge di approvazione finora un record ha manifestato il diritto all'originalità che la Costituzione si è preoccupata di garantire ai responsabili civili e religiosi alle comunità alla società civile e alle istituzioni affinché interpretassero i precedenti e la prassi come un trampolino e non come una zavorra e perché esercitassero pienamente la loro responsabilità elasticità pluralità e originalità colgono la cifra più profonda dell'impianto costituzionale dei suoi capisaldi la libertà religiosa e la laicità esse colgono anche la cifra del diritto ecclesiastico italiano storia e dottrina di principi norme procedure enti in movimento in costante movimento tra arretramenti battute d'arresto scatti in avanti tra politica e diritto tra interessi e valori grazie grazie mille professor Ventura per aver messo in luce l'aspetto dell'originalità che ci contraddistingue e ha ragione professor Ventura quando dice che questo è un punto di partenza non è un punto d'arrivo quindi è un cammino che continueremo a fare insieme e a questo punto lascio la parola di nuovo per le conclusioni al presidente Filippo Scianna che ringrazio di nuovo allora poche parole di ringraziamento di saluto ma ci teniamo a ritornare sul tema che il professor De Pretis accennava prima la questione del report di sostenibilità perché vogliamo tornare su questo intanto riallacciandoci a quel principio menzionato dalla professoressa Falà la scelta che venne fatta a suo tempo la decisione di dire ciò che non ti è dato lo restituiamo questo principio ha informato le decisioni legate alla distribuzione di parte della quota 8 per 1000 in particolare della quota cosiddetta inespressa è una decisione forte presa a suo tempo con grande giudizio con grande riflessione che ci sentiamo di avvalorare una scelta preziosa che continuiamo a sostenere e condividere e la questione era quindi fin dai primi anni in cui c'è stata questa possibilità è stata quella di valutare quelle organizzazioni che secondo dei processi interni hanno chiesto di essere sostenute aiutate in progetti ritenuti preziosi di grande importanza per la società negli ultimi anni abbiamo ritenuto abbiamo pensato che non bastasse una mera selezione basata su dati giuridici normativi tutte le verifiche che devono essere fatte ovviamente rispetto alle organizzazioni finanziate non bastava nemmeno un mero monitoraggio economico ma proprio in osse un principio di interdipendenza avevamo bisogno di verificare quello che era l'impatto di questi progetti non solo nel presente ma nello spazio e nel tempo e quindi ci teniamo a presentare questo che è un report di sostenibilità che racconta nel dettaglio ispirato ai principi dell'agenda agli obiettivi dell'agenda 20 e 30 e che racconta in dettaglio come le organizzazioni finanziate rispondono o meno in che termini in che modalità a questi obiettivi quindi c'è una valenza interna da un lato una valenza interna proprio legata al nostro modo di concepire la realtà al nostro modo di valutare le organizzazioni di valutare gli effetti dei progetti che andiamo a finanziare c'è una valenza interna anche rispetto ai rapporti con lo Stato non consegneremo solo al Ministero un mero report economico ma diremo esattamente con precisione cosa queste organizzazioni fanno chi sono e qual è appunto l'impatto dei progetti credo che questo sia uno strumento molto valido e credo che ci sia l'apprezzamento delle istituzioni quindi ogni anno proseguiremo in questo senso ma credo che abbia anche una valenza esterna le stesse organizzazioni finanziate si ritroveranno tra le mani un report che costituisce una sorta di fotografia della loro realtà anche per loro uno strumento che può consentire un miglioramento in qualche maniera della loro organizzazione e dei progetti che loro stessi portano avanti quindi ci teniamo tantissimo e siamo felici e non secco di un principio di sostenibilità abbiamo deciso di non stampare questo volume abbastanza ampio ma lo trovate chiaramente sul sito lo potete vi verrà verrà inviato un'informazione con il link da cui è possibile per tutti prendere visione di questo report e ci tengo in particolare a ringraziare i professionisti che ci hanno dato una mano più che una mano a elaborare questo report perché l'idea è stata anche qui di rivolgersi delle grandi professionalità e quindi ringrazio pubblicamente Etisos Foundation in particolare nella persona di Fabio Salviato peraltro fondatore di Banca Etica e quindi persona che chiaramente con il terzo settore con le organizzazioni fin da illo tempore ha dato un contributo veramente prezioso chiudo ringraziando ringraziando tutti i relatori tutti vi ringrazio per la vostra presenza ma non solo per le vostre parole che sono state di grande stimolo di grande conforto abbiamo sentito la vicinanza veramente di tutte le istituzioni oggi e vi ringraziamo di cuore e sentiamo forte quindi una collaborazione sentiamo forte una vicinanza verso il bene comune siamo tutti impegnati verso il bene comune della società e questo quindi è la promessa di un continuo impegno che l'unione buddista italiana porterà avanti nei prossimi anni e quindi l'appuntamento facciamo partire il timer per ci vediamo qui tra dieci anni per festeggiare il ventennale della legge 245 e davvero vi ringrazio vi ringrazio di cuore grazie a tutti un saluto particolare a tutti i centri agli ex presidenti dell'UBI che sono intervenuti oggi alle istituzioni e grazie davvero per aver reso questa giornata speciale grazie davvero di cuore grazie a tutti grazie a tutti